Il posto che tutti amiamo, forse perché non ci sono vie di fuga, non è che puoi prendere la porta e andartene, e quindi dove preferiamo affrontare questioni che ci stanno qua, che non scendono né salgono, e quindi adesso te le dico tutte, eh? L'auto! Al mio segnale, scatenate l'inferno. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.